Al di là delle emozioni, che cosa vorremmo che mi fallisce? E noi, dalla sorella di Viglia 15, ecco qua, Gesù, con l'inverno, che non partono tutti, quindi ci stanno in una mano, che sarebbero la stanza, per sé, e se cosa Gesù ti dica, fatela. Cioè, fate quello che Gesù ti dice nel Mangeo, fidate di lui e delle sue parole. E allora, fidiamoci di Gesù e delle sue parole, perché lui dice, no, vuole solo il nostro bene. Sì, solo nella comunione con lui, solo nel vivere, secondo la sua parola e il suo esempio, c'è pace, gioia, c'è una vita pienamente riuscita. Sì, solo nel vivere, secondo la sua parola e il suo esempio, c'è pace, gioia, c'è pace, gioia, c'è pace. Sì, solo nel vivere, secondo la sua parola e il suo esempio, c'è pace. Sì, solo nel vivere, secondo la sua parola e il suo esempio, c'è pace. Sì, solo nel vivere, secondo la sua parola e il suo esempio, c'è pace. Sì, solo nel vivere, secondo la sua parola e il suo esempio, c'è pace. Ave, ave, ave Maria.